buongiorno buongiorno a tutti ragazzi oggi siamo qua soltanto deve fare un po di gta mattina tranquilla l'unico per il momento in cui c'è tempo perché ora ha altri impegni eccoci qua con noi eccoci qua ok no non solo 05 no perfetto siamo in live ok tenente smith 18 e non so se faccio le white list oggi magari più tardi forse questo è fk e battuglia dove abbiamo gli agenti allora ce l'abbiamo creati qua sparano ok paro di questa zona agente mi hanno appena sparato ma chi un tizio giallo con una motocross ma dove mi ha bugato la gomma e c'è pure un finestrino forato ma dov'è è andato verso verso la pacifica ok va bene ciao liggio lincoln 1 18 lincoln 1 18 chi lo sa che ha sparato boh vabbè ormai è ormai è scappato ma tieni tranquilla alla fine comunque dai sperano di nuovo che cazzo c'è lincoln 1 18 lincoln 1 18 lincoln 1 18 lincoln 1 17 che cazzo è che spara Ciao allora pietro Buongiorno Gente che spara in sta zona Ma che Cosa vuole il vaporello? Ma che cazzo sta poi? C'è una moto Vabbè Mattio No niente Sto togliando così Chill Vabbè Ok Vieni a giocare anche tu Dai su Oh Cazzo di follo Clown Clown 201449 Benvenuto I cazzo di follo a Real Beans 263 Benvenuti Buongiorno Davide Buongiorno Ma questa cosa qua Poi accoglioni Buongiorno Real Beans Buongiorno E vabbè Lincoln 1-108 Yes Lincoln 1-108 Ma che sono sti veicoli Abbandonati qua Così Chi è quello? Ragazzi Rifollo Vento FN Benvenuto Salve Chi è lei? Perfetto Ecco Taxi scale 10-7 Ma chi è sto qua? Chiedo agli sceriffi se convergano alla Blaine Non penso ci siano sceriffi Ecco Ci stanno ma sono tutte reclute Ma andai a loro Vabbè E poi abbiamo una squadra E convergiamo Signori Su Avanti Dov'è collega Canarino Vieni con me Eh Canarino Come collega Canarino Salve Oh mamma mia Sei tornato Oh no Sei tornato Non ci posso credere Chi è questo? No Guarda buttami giù da un ponte Ciò Chi è questo qua? Scusi ignoranza Ma non era attivo Un progetto per vedere più console Sono sicuro Che significa Su console Ah Su console Ecco Su console Non lo so È un progetto attivo Però non lo so Dimmi dimmi Gli dai Ma chi? E' un altro Non dì chi è? E' una redta E' qua Come si chiama? Come? Come il cognome? Quanti chiede? Con le documenti? Sì certo 5.4 Di attacco Per la lane E' in quanto chiede? C'era fino a certo No lei non è assunto Al dipartimento Mi dispiace No Sì lo so che non sono assunto Eh infatti allora non le do il badge No perché Allora via Non so se vuoi interrogarlo prima Va bene Non mi interessa Chi era un suo superiore Del sceliffato Di farsi dare tutto Io non lo vedo Neanche sull'applicativo Non la vedo Eh sì non ci sono Devi chiedere il signore Devi chiedere al suo sergente Finché io non ho prove che lei sia qui Non posso darle Non posso darle Mi dispiace Ho il distintivo sicuro Se lei è l'equipaggiamento a me Non mi interessa Però lei non è sull'applicativo E nessuno mi ha detto Il formato che lei ha assunto Mi dispiace No l'ho informato io Eh perfetto Allora non è assunto No banner Andiamo alla plane Sì venite anche voi due Siamo 5.14 Io alla plane Ok Ancora un posto C'è banner Vieni ancora un posto Dai vieni banner No va bene Vieni ancora in radio Vabbè venga uguale Sì mi è stata la plane Dimmi No andiamo a prendere i cattivi No qui abbiamo il soggetto Viene che Milani è la plane No papà Se vuole lo chiamo Lo vediamo in quest'odio Sì Sergente Banner Sergente Maggiore Banner Lei e Smith Sono i miei genitori della polizia Praticamente Quelli che mi hanno spiegato tutto L'abbiamo L'abbiamo formata noi L'abbiamo formata Formata Puoi dire professore Comunque signori Io sono abbastanza convinto Che se non ci vuoi Ok sento continuamente Shot find Poi venti nella zona Di garage centrale Alcuno vada a controllare Quelle zone Perché continuano a sparare Da 10 minuti Non capisco da dove vengono Si spari Arrivo Io stanno convergendo la plane Quindi non sarò disponibile 1p4 Ah Rp su console C'era un progetto attivo C'era Ok Sarebbe arrivato Però Però E' certo Dove metter il casco Quello giusto Sack Eccolo qua Perfetto Andiamo Andiamo Ehi Venica Io guardi ho avuto Un 10-0 Prima ho fatto un arresto Del denaro sporco E non so E la dia a un coordinatore In su Ah ok Vai Grazie 5.14 Andiamo alla plane Dopo un Smith Check Eh oh Ma chi coordina Un agente esperto Non c'è Popi popi Coordini tu Popi popi Invece di fare Popi popi Coordino io? Si Oddio Ma la smettete Che cosa Non c'è qua Il regato Coordina tu Ciao Eh aio Non faccio una Blame Dal 15-18 Sappiatelo No Non la faccio Dal 15-18 Io Tipo è da 2-3 mesi Che non faccio Una blame Sarà Perché ti rimetti in moto Inchiniare il primo sub Ovviamente Poi quando scada la sub Poi devi rinnovarla Se no non puoi Continuare a ripeterlo In chat Prancel Inchiniamoci Tutti al primo sub Ehi Mi chiamano Oh bella È a 5.14 Ci viene anche in tacca Oh C'è 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 Il check Potrebbe essere abbastanza Azencato In questa Quale Addirittura Ommaro Altrimenti basterebbe avere un pc di fascia media per giocare senza lega Eh oddio fascia media Oddio dipende cosa intendi come fascia media tu Perchè FFM pesa Io ho una Ho un Ryzen 9 5900X 12 core E faccio 20% di CPU Ho una 1050 Ti da 4 GB E faccio l'80% di GPU eh Va bene Cioè Conta che per giocare bene Su FFM devi avere un buon processore e una buona Scara video e una buona E a meno 16 GB di RAM Tutti i siti da sceriffi Già non so Già sono toglia perchè era un branco di Forse le scivisti salvano E vabbè Perchè sono entrati tutti quelli della polizia che scappavano dalla polizia Cioè infatti appena Cioè sono scappati tutti dalla polizia per andare nello sceriffato E stranamente tutti lamenti E allora c'è un po' un problema Allora Quello gruppo stava in polizia e si lamentavano tutti che in polizia c'era un problema E poi sono andato negli sceriffi e tutti lamenti che stavano problemi negli sceriffi Per dire che c'è qualcosa che non quadro Ma sono armati? E certo che sono armati che stanno senza armi Ma pesanti o no? Non sono armati, non c'hanno niente effettivamente Per vedere ora non c'hanno niente Perfetto Ah no, tengono una pistola Eh mamma mia però eh Che veicoli ci stanno fuori Ci fanno fare una brinca o una pistola questi? Eh ma la mia ce l'hanno questi qua Vabbè stavo dicendo no? Ma che veicoli hanno fuori? Un camaccio Ok allora scapperanno con un camaccio Quindi prendete fuoristrada Io tengo un fuoristrada Quindi siamo in sei Due fuoristrada e Due fuoristrada e Quattro moto Io ho un fuoristrada e Orlando una BF Ok io c'ho un fuoristrada e tutti gli altri in BF Sono qui Allora andiamo già due fuoristrada pronti E tutti gli altri che non hanno perso fuoristrada Prendono la BF No devo stare qua io Ok perfetto È l'SPD signori Cosa sta succedendo qua dentro? Ci sono quattro Ci sono quattro voicoli nostri Quindi vanno a prendere un altro fuoristrada ragazzi Ma come la tua ex collega? Siamo in polizia Signore Signore Non ti sto parlando Izzuna Mi raccomando ci dica nome e cognome suo così la veniamo a cercare anche dopo Ti ricordi Izzuna Non ci credo Non ci credo Sono il tenente Smith Salve Sergente Lili Rossi invece No ci sta pure lo sceriffo che sei unito Cazzo Sergente addirittura di Gennarino ancora agente Com'è possibile? No Gennarino è coordinatore Ma com'è possibile Gennarino che sei ancora agente? Vabbè non lo so Mica bella Io contratto con la signorina Lili Rossi ragazzi Lili Rossi ragazzi Voglio contattare con la sua Eh Smith Mi raccomando Oh cazzo c'è pure lei Ma pensa C'è anche Smith eh C'è anche Smith Che è il tenente Smith Ci stanno tutti Ecco Siamo troppo No siamo in sei Siamo in sei in tac No lui non è in tac Ok lui non è in tac Non viene allora A posto Ragazzi non posso stare in tac Eh allora non puoi venire Non hai vincitato nessuno Non hai vincitato nessuno che venivi Che noi siamo tutti in tac No è scelizzo Che cosa ti dico? Sono stato il primo a dire la frena Perché voi stavate a dormire in la In centrale diversa Ehm però puoi si che la tac è fatta apposta per starci dentro Chi non può starci Vabbè fatela voi Va bene Va bene fatela voi tra voi Io si capisco che poi avevo spesa al dipartidente Poi lui ritornò era vivo perché esplosso Vabbè Non è vero Non è vero Vai vini qua E non lo so esplosi Ragazzi Banner Esatto Ehm Ma Eh Chi se ne frega Non è in trenta Ragazzi suoi Problemi a meno Cioè Il due è sempre che è un pazzo di criminale furioso Ostaggio come si sta bene Sono un pazzo furioso cazzo Si Sono un pazzo di furioso Ragazzi del follo Antonio05P Benvenuto Non sappiamo tanto che abbiamo a che fare Posso flammare un pochino Ehm Dipende Con uno che Ma che c'è questo qua All'ernia Hai da che fai ragazzi Con uno Continui con la contrattazione Ah perchè io vedo 0 bf 400 qua fuori signori Vedo una macchina che non serve a niente Due macchine che non servono a nulla Vedo Il fuoristrada che avevo chiesto Un SUV Un obf E due auto che non servono a niente Perchè loro erano fuoristrada Quindi l'auto non possa venire a nulla contro un fuoristrada Mamma mia stassi calmo però eh No ragazzi io sto calmo quando do ordini e vengo rispettati Cioè se io dico vedete fuoristrada In che senso avere Sono arrivato lì per primo No no ma non dico te In alcun altro ha preso un'altra auto E l'ha messa qui fuori Vabbè la vado a cambiare Ragazzi dove c'è che siamo aspettati Ma guarda adesso È meglio fuoristrada o SUV Fuoristrada è più pesante Perchè il SUV è troppo leggero Ma fuoristrada è più pesante Eh lo so però A livello di guidabilità È più C'è più guidabile fuoristrada Perchè il SUV è troppo leggero E curva troppo 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 Cioè il fuoristrada si revalta Il SUV è curva troppo Ecco Heartshot Grazie di forno Benvenuto È così piccolina e dolce Come la sera d'arte Ma finì chi è che sto qua? Stai dicendo il suo nome e cognome quindi Ma anche la mattina adesso hai visto Chi è che sto qua? Non lo so Non lo so Ma chi è che stai parlando? Stanno dichiarando? Stai dicendo Sti capelli buoni Sti vogliono sposare ora Non lo so Avete portato le fedi per sposarvi anche? Sono bellissimi sti capelli cortissimi Eh Senta Giovenato la smetta subito di provarti Mi sto sposando con Lili No grazie Stanno sposando Mi faccio ricensiare Lostaggio Lostaggio ragazzi lo ammazzo Che devo fare? Ma in casa Basta che non ci provi con Lili Poi fai quello che vuoi Ma non ci provo È fidanzato non ci provo con Lili Non ci provo con Lili Cosa? Ci mettiamo già Lili Ma quanti ne siamo raga? Siamo 6 3,5,6 Ok Ma che perimetro Facciamo ragazzi Ci mettiamo Lili Ma come che perimetro? Ma non lo vedi? Dovai per la persona interna Dona 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 per la persona interna Ma tipo le Ma le molte tipo alle ci sono Si ci sono Sì Ehi Faccio perimetro Si fa in perimetro Vedete se c'è gente esterna E poi è giorno Si Vengo a chi ho fatto Parla con la signorina Parla con la dottoressa La polizia Affane ha detto Mi hanno chiesto No tranquillo Mi hanno chiesto di Ok salgo sul tetto del Willis Nel frattempo Vedo se c'è qualcuno qua sotto Si andate attento che magari ti sparano eh È ovvio Se non mi sentite più Potete immaginare che fino ho fatto Oh no 50 Dilli massimo Dilli 50 massimo Dilli che lo stato ci fornisce 50 mila dollari massimo Eh signorina facciamo così signorina Lindy Leggi da 100k Noi prendiamo i soldi Leggi da 100k Più la edifica Vai 50 mila E tu dai lui gli stima Però più la via di fuga vogliamo Ma te lo dico È pulito il tetto? Si Pulito Ok Odilli Oh no no Gennarino dilli Gennarino Gennarino Prendagli i soldi fermo Vabbè Vai tantissimo Non devo dargli in gioco Eh prima o la via di fuga o i 50 mila Vabbè i soldi sono qua Dalla mi possono prendere Vabbè o la via di fuga o i soldi Lì Dilli che i soldi sono lì Se li vogliono se li può prendere Lascia l'ostaggio Altrimenti la via di fuga va bene Lascia l'ostaggio Tutti i due cazzo dai messi i soldi Vogliono tutti e due dicono Dilli che non posso avere due Cioè Col cazzo Francesca Maria Cazzo per il pollo Benvenuta Aspetta prima di prenderle in mano Per qualche fila Perché vogliamo fare l'ostaggio Non lo prendiamo Facciamo così Allora ragazzi Facciamo così No Facciamo così Fermi un attimo Dato che questo ostaggio Non è un pezzo Un piccolo È un pezzo importante Lì è l'ex sindaco Della città Ex sindaco L'ex sindaco Della città di Lui è Svizzero Ah Comunque Lui è un ex sindaco Qui stiamo dicendo Una persona importante Vogliamo esattamente I soldi Non lo spesso Puntiamo allo stadio Banner No Vai dici Esatto La porta Andiamo in macchina Ragazzi Preparati Esatto Ok Sono in posizione Fuori Sembra libero Perfetto Prepariamoci per l'inseguimento Sono senza una porta io Meglio Perfetto La tecnica matador Aggiornateci quando escono Così partiamo a seguirli Sì Un attimo Chi è che sta qui con l'ostaggio e poi ci insinuisce l'inseguimento? Ma è una bomba Ragazzo del follo Ok 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 Assicurati che l'ostaggio non abbia addosso niente che l'abbia preso loro Controlla all'interno della banca se non ha lasciato nulla e poi mi dicono che non è Spostatevi tutti Orlando sei pronto tu? Sì Ricevuto sei pronto Ottimo Possiamo uscire ragazzi È stato per uscire Ok Stanno uscendo Stanno uscendo Ti spero il pene Ok Ottimo Ok Stangono Ok Stanno per entrare Sono entrati tutti Partono È puntato l'ostaggio Un attimo Ti buco il testicolo Il testicolo Il testicolo Sono bene anche questi Senti come si scoppiettano Partite Attenzione Stanno partendo Aiuto Via 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 Partiti Perda Fermi subito Vabbè Sceriffo Ottimo lavoro Ok Attenzione a non farvi vestire proprio con le moto Legata Legata ora Posso fare con la manovra Pitte? Pitte Pitte Legata Legata Un richiamo che non puoi dare Un richiamo che non puoi dare Armi non posso andare a correre veloce Mi servono le bf mi servono Sono ribaltati Sono ribaltati Non c'è Non c'è Non c'è Col cazzo che botta Col cazzo Bravo Ceristo Bravo Ehi che cazzo Mi faccio io il permesso Da dove stanno Laci venire Sono all'inseguimento Ok ho perso Attenzione a non andare troppo veloci qua al ponte L'imponente è che non è nato in acqua Mamma mia io sto dietro a te che cazzo ho visto L'hanno svolgato a destra vanno verso Sandy Mi ringrazio tutti per il follo ragazzi arrivo subito Grazie per il follo colmi Mi ringrazio tutti per il follo anche al studio Sì siamo a Sandy Shores Siamo arrivando al motel Siamo arrivando al motel di Sandy Shores Grazie per il follo Mattemara benvenuto Quante anni hai? 19 Porta un po' di WL L'avevo portato spesso Faccio un po' di RFI oggi Mi ringrazio tutti i PSI Vanno verso l'aeroporto di Sandy Stiamo arrivando Allora vediamo che un batterutoppio Non faccia il villano che allontano Non c'è uno spoltello Non c'è uno spoltello Non c'è uno spoltello Non c'è uno spoltello Ah sì, fermati Non c'è uno spolto di Non c'è uno spoltello Messo c'è uno spolto di All'altra città? Stiamo andando verso il Monkey Verso il? Verso il Monkey Custom verso Lasgas Monkey la accusate una volta che è entrato girano a destra dietro il penitenziario sulla strada la strada sarà serata dietro il penitenziario a sinistra dietro il penitenziario vanno verso il cantiere che ci sta a Sandy, quello grande attenzione esatto c'erano lo sterrato stiamo no, al 7.20 no, io sono qua fuori strada lui con la moto Orlando c'è ancora quella moto? ciao Furchado Orlando, vedi tu sulla destra e non ti vorrei acciaccare vai abbiamo passato la fuente blanca per chi è ancora indietro due volte a una destra vanno sopra la montagna e verso Laschettavani in modo da l'incirca per intenderci si vanno a destra passiamo sopra la fuente blanca l'altezza è stata sopra chi può tagliare tagli ho fatto un incidente cazzo mi ha perso di vista attenzione banner ammazzare c'è di fuori la smetta di parlare così che io i richiami li posso mettere ce li ho ce li ho di nuovo siamo verso 707 si si 707 stanno andando verso quella zona lì ci sono dietro è che si ruppa l'ente faccia bozza eh ma se la lì si sa vale vado 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 li arresto scendono giù alla cava quella sotto 0307 aiuto mi sto ribaltando vai li ho persi di vista ora mi informo ok sono qua ancora sono scendendo giù verso giù ce li ho ancora stanno andando verso l'azienda vinicola stanno salendo in quella zona lì siamo sotto la 911 non vedo niente si eh come no sono sotto l'azienda vinicola stanno andando verso il ponte di zancuto stanno verso la route 68 sono da solo ho paura che scendono e sparano siamo verso il ponte di zancuto verso nord ok ok perfetto ti vedo sono quasi se dovesse succedere tu stiamo tornando verso paletto le collettore cerchi di bloccare cosa banner se dovesse succedere che scendono tu sparate tutta la gomma si si un giorno bomber tutto bene tu siamo al 2001 si siamo c'è il c'è il 2001 stanno andando verso paletto esattamente io ho visto dietro con una macchina di un civile e prestato sono sempre verso paletto o antina sull'autostrada sto provando a riprenderti quanto fa il camaggio fa 110 circa perché io non sto superando i 130 anche cioè non va molto veloce va a tratti perché sono le curve ora stiamo andando un po' più veloci sale la segheria grazie al foro notizie sento altre sirene perfetto sono su fuoristrada sopra la segheria sarò nel tunnel sopra no no nel tunnel siamo nel tunnel siamo usciti da l'altra parte ora stiamo andando verso stiamo tornando giù verso il lago ho girato a destra quindi va verso il 1700 verso quella zona lì oh no mi puoi tirare in casa torna lì mi sa sì tu sei con l'auto o fuoristrada? sono col fuoristrada stai proseguendo dritto va verso Sandy sempre che è successo posso tornare che ho fatto il 10-0 devi chiedere a loro dove stai andando? stai andando manco lo sanno vai vai dai esatto l'interazione non è iniziata potrete tornare una macchina ma dove sono andati? bombe comunque scrivi sul discord siamo verso Andy's Shores sì 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 stiamo andando verso il nuovo verso la fuente blanca in direzione quente blanca vedi quanto laga a volte sì a volte laga lo so a volte laga la rai non so perché non vedevo più con gps eh sì ha girato a destra mi chiamo che io vi ha pezzi di molte ma è Orlando? Orlando è in moto non so se sta ok noi siamo stiamo salendo sulle montagne verso 707 siamo fuori strada montagne proprio a un chilometro 707 siamo ora sto riarrivando ragazzi riscende no 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 riscende 707 no siamo intorno al campo torna di nuovo appunto della cava di prima della caverna lì nella miniera scendono due dalla miniera non sa che fanno lo stesso giro stavolta non mi sono ribaltato però oddio sono caduti giù sono caduti giù non dirupo sono ribaltati stiamo tutti lontani arriviamo il prima possibile alzate le mani fermatevi alzate le mani alzate le mani scappano a piedi alcuni scappano a piedi uno scappa dentro la caverna alzate le mani no no sono entrati venite giù alzate le mani subito scendete alzate le mani signori scendete alzate le mani subito scendete alzate le mani subito stanno dietro non li vedi dove non vedi tutti lì è ripartendo c'è un soggetto dentro la caverna qualcuno entri dentro qualcuno è da dentro la caverna io proseguo con l'inseguimento no quella lì è l'unica uscita quindi attenta dovete andare in due perché c'è due biforcazioni all'interno ok attendo qualcuno davanti alla caverna che stiamo insieme ottimo hanno fatto un frontale che botta cazzo che botta che botta che botta che botta che botta che botta oh sto fermato davanti non c'è qualcuno riesce venire qualcuno va da Orlando dentro con lui Lily Lily Mettila lì no no non metterla a 5 parti vai dentro con Orlando ci sono due biforcazioni all'interno lo sapete no com'è fatta scelta mi faccia passare di seguimento procede Gennarino sei dietro con noi Gennarino grazie benvenuto Gennarino era davanti a te penso sia dietro penso sia dietro Gennarino ma non parla in radio oh cazzo che ne avete ancora lì lì io sono della caverna sì ce l'abbiamo siamo solo uno per trasferire oh cazzo cazzo ok dove ci siete che arriva oh cazzo 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 ok vai la caverna insieme a Orlando la cazzo la miera ok sono a Sandy prendere il polizia quindi non va per la caverna ok noi siamo all'inseguimento siamo alla bella riva stiamo scendendo verso la città c'è bisogno di razzesiziare di capito ok arrivo e lei non è scritto potessi poter testarmi nel senso favore ok perfetto dopo vi ho contato e leggo oh Andre non esci via con noi sì c'era uno sceriffo con noi spenga non spenga aiuto ma teoricamente tanto è chiusa esatto non può uscire da lì ok eccomi ok ho i problemi eh sì ok noi siamo va ma sopra sì sì era quello che gli stava avanti ok ma non te le accorta ma inizia a giro dove siete siamo al golf in città verso vinewood stiamo girando ora a sinistra verso verso nord vinewood anche che piglione sempre per vinewood e se la cavolo pure la collega che è andata dentro sta bene? sì sì è tutto vuoto fate un check radio continuo allora vieni a sinistra ti aspetto se sei arrivato in fuoco ti aspetta di nuovo chi è qui? sceriffo se fai un incidente e blocchi la strada è la tua responsabilità andate avanti voi non voglio la responsabilità vabbè passate 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 oh grazie per il follo Ari grazie per il follo benvenuto stiamo andando adesso nelle parti dove eravamo prima perché taglio in mezzo stiamo tornando in nuova miniera ragazzi non in nuova miniera stiamo tornando forse vieni a recuperare l'altra persona adesso nel follo bomber 9800 magari ci vanno a sparare sì ci vanno a sparare a donare qui adesso c'è un mal di mano grazie per il follo Adam di smira grazie per il follo benvenuto siamo 7.07 ora c'è il soggetto lì da voi? sì ok banner e Orlando non ti senti da sotto grazie per il follo teaconi benvenuto libero qua banner arrivo puzza animale Orlando mi stai sperando no lo trovate qua in fondo è nudo sdraiato per terra che non mi senti non altro c'è di fuori da piano pericolo dove siete siamo a Vinewood sempre non vedi gps un detto l'altro siamo a Vinewood sopra il tequila per intenderci circa ok ok via d'aria siamo sopra il tequila circa stiamo scendendo ora verso il tequila quindi vieni lì salve Ale oddio è volato male volato male box 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 atali alzate le mani subito alzate le mani scendete alzate le mani alzate le mani tenga le mani alzate venga la pistola voltatevi verso il veicolo votatevi verso il veicolo tutti quanti con le mani alzate signore lei è in arresto ha il diritto a rimanere in silenzio questo cosa dirà o farà potrà essere da conto lei in tribunale ha diritto un avvocato se non può permetter essere uno gli verrà segnato un ufficio compreso i diritti perfetto aumentate anche gli altri prego venga verso il fuoristolo mamma mia se è in seguimento prego eh affermativo siamo sotto il tequila sto arrivando ok ragazzi quello che ho arrestato io l'ho messo nel mio veicolo sotto la caverna come sta la cava la sergente l'hanno preso uh ragazzi hai più rete le proposte in modo leggero in questa settimana qua che volano fatto ma no ma no si ma no si ma ma ho fatto asperare per mezzo mondo eh io dopo 40 minuti cazzo con mal di occhi è venuto che sto pezzo da merda mi ha fatto volare che devo dire tutto ridurre vaffanculo te il camaccio della polizia è diventato mamma mia che bozza lilli la prendi tua signorina che vorrei toccarla io signorina venga qua non sente bene per ora stiamo male stiamo male adesso andiamo in ospedale la fratella d'oggi no più lì 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 in auto ha preso sui diritti giusto sì ok perfetto oggi la buongiorno lo sentimo bene venga con me ma è giura sì è giura è stata dietro a un campione come lui incredibile ma arriviamo 217 affermativo vai vai chi ha la macchina tra yard non è la macchina tra yard che si è ribaltato tante volte che si sono trastaccate tutte le porte signore mi ha fatto correre per mezzo lo santos ho fatto un bel gigantesco mamma mia adesso lo portiamo in centrale se vuole un infermiere un medico la chiamiamo mamma mia mamma mia che fatica in seguirla per tutta l'isola come l'isola hai una macchina alla cava che puoi mettermi in bollo come l'isola siamo qualcuno può venire dove alla cava che mi ha fatto venga tu venga tu venga lì real pt grazie per il follo benvenuto sta laggando un botto ora non si è ripreso prego venga si sto arrivando la cava prego mi segua conosce la strada si perfetto prego su di qua prego di qua devo stare la cella una occupata ecco è libera è libera perfetto si che cazzo arrivo subito poso l'arma arrivo subito eh grazie per il follo tombato 04 12 g benvenuto benvenuto mamma mia che sudata è bravo smith perfetto tolgo le manette per così scolta la con le manette che cazzo che dolore che dolore ma che è sta roba qua che è sta bustina signore no non è niente che è l'ho trovata lì dentro il bag ragazzi la fine l'attenzione di quanto è gilio a sventare mod te lo metto però devi moderare sergente smith tenente smith ormai non degradiamo il povero smith qua mi raccomando quante pistole c'ha una due pistole addosso c'ha sergente di virus come sta un po' bene ma donna izuna potevi diventare sergente anche tu ma perché gilina cosa sei diventato adesso tolgo le manette sono diventato un pezzo da merda le tolgo anche l'asce le tolgo le asce e ok le tolgo anche le asce e dimmelo tu si e la segra la segra la segra è quando tolgo la maschera colpa mia quindi mannaggia se lo sapevo venivo a trovarti e invece non lo sapevi e purtroppo sono diventato un cattivone vabbè possiamo devi dare il documento cortesemente ora che mi hai visto non farei più il criminale posso vedere il documento cortesemente no ecco a te in zona toppe si tocca gli occhiali grazie si chiama in zona toppe davvero si non l'ho mai saputo il tuo cognome in zona in zona toppe tocca gli occhiali tocca gli occhiali la pena e la sanzione guarda l'altro collega vabbè a jolly lulu ciao la pena e la sanzione di quanto è la pena e la sanzione la pena e la sanzione la pena e la sanzione perfetto eeeh un attimo vado a vedere un attimo quanto volte devo farle non mi ricordo posso fare qui carcere gente che la sanzione la fine grande sarebbero se non sbaglio 50.000 Blaine 50.000 pronto? oh Dani si sono scialdino ma che è lei? controlla bene la data scusi sono occupato ora per lavoro mi ricamita 10 minuti no è urgente sono impegnato in un arresto mi scusi se non posso ma io sono qua in centrale ho bisogno di un'attenuta eh arriviamo e mando subito sotto la gente arrivo arrivo arrivederci un attimo non c'è tempo ora non c'è tempo un attimo non c'è un arresto ok ma Blaine è grande ragazzi perché usiamo le carabine si vabbè facciamole ragazzi facciamo di uno sconto di pene facciamole 40 no 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 grazie la Blaine è malata grande banca media come banca media usiamo le carabine e che vuol dire le banca media sono tipo la flica sandy l'africa est poi la banca piccola le fliche da tre persone la gioielleria i negozietti Gabriele è possibile va bene va bene va bene va bene grazie per il follow perché non parli più un attimo un attimo allora ecco qua allora faccio 30.000 dollari di multa si lo posso fare per il carcere per genti cortesiani eh no devo mandarla senti per tutto eh dai cazzo questo è a piedi no c'è le biciclette in oleggio eh dai cazzo è troppo faticoso vediamo subito sul database cosa ha lei come variati precedenti non c'è niente non c'è un cazzo non c'è un bel cazzo grazie allora vedo che lei ha delle fatture non pagate non è vero a bugiare sì due fatture non pagate multe medici una vanilla e un'altra no un'altra qual è un dollaro vedo che nel porto da poi vedo che hanno tante la prima la blaine esatto poi classe a vabbè poi ha tre lati di classe a e lo sa vero perché la blaine 2 blaine e poi 3db sono tre reati di classe a e questo è il quarto stai attendo che la prossima blaine e quinto e poi vi processo oh cazzo è perché ogni tre reati di classe b fa un reato di classe a e lei ha già due reati di classe a e tre di b quindi sono tre in totale e no di andare al procuratore e farsi pulire la fedina penale va bene grazie andro la informo perché sennò poi non si lamenti se poi la abbiamo a processo va bene mi vanno adesso in carcere un attimo quanti mesi però quanti mesi e cinque mesi da di meno sono bravo e collaborativo da per piacere buongiorno ciao collega cosa scrive i suoi reati sono stati di scrivere rapina mano armata blaine rapina armata detenzione di arma legale in modo illegale legale e poi anche mancato alto scrive prima mano armata blaine virgola sequestro di persona virgola detenzione illegale di arma illegale illegale virgola e è mancato alta dipende se aveva un'arma ma illegale scrive di attenzione illegale di arma in legale e allora legale in modo illegale smith se ci spiega la sergente venga qua vado in carcere passeremo un attimo che vengono a portarti infetti nasce l'interno va bene che si parla di cinque documenti puoi andare la manda in carcere cinque mesi vieni a cercare dopo venga a cercare sì a vederci buona fortuna ciao ciao e andrei in 40 di Grazie. Allora, baci la voce, baci la voce. Grazie per il follow a ossofede4l, benvenuto. C'è la regola dello scelistato, questo qua, perfetto. Blaine, 12 e 30 mettiamo. Blaine. Grazie per il follow, i3, gaci, benvenuto. Dario, ma dopo che ho compiato il Google Fan per la cariatura staff, che devo fare? In che senso qua la cariatura staff? Bomber, Dario scusa se ti disturba, no, ricordo di leggere quanto vuoi, specialmente se vuoi fare. Eci, lo leggerò poi, ormai Dario è proprio preso da lavoro e diverso. No, adesso sto facendo una fedina penale un attimo, che finisco di fare la fedina, poi guardo la chat per bene. Mizuna, toppe. Ok, verso un paio, però quale della posizione lo sento? Vabbè, ho cercato di tirare a campagna. Oh, ho fatto la fedina, è tutto. Sì, ho preso qua a sinistra, è quello che abbiamo preso da cava, no? Ok. Era nudo, accovacciato dietro un cosa. Tenente, vuole andare a fare un'altra plane? No, no, ma che è un'altra plane? Ma che è un'altra plane? E rimane scoperta un'altra plane, capisci? Oh, ok, un'altra no. E mi manda leggende, io mi mando un Adam. Io mi mando un Adam, mi mando un'altra Adam. Se no, rimane scoperta. Eh, adesso vediamoci tutto. Ok, se riesci, rispondi un'altra. Tac, tac, tac. Vada lei alla plane, invece di, sai qua. Non posso, io non posso. Cioè, prima non era venuto, ora non può più. Eh, lo so, prima, però non posso già andare a mangiare, ecco perché. Banner, ripeti. Banner, ripeti che ti ho detto. Aspetta. Grazie. Ora compino la fin... Banner. Ma è di Zuna, in che senso? Ma io ho visto Dalla Sua Live, ma non era Power Game. Ha avuto terza persona, dopo si è ribaltato da voto. E mi è avuto riscappato. No, vabbè ragazzi, fa lo stesso. Cioè, alla fine si è consegnato, ragazzi. Si è consegnato, alla fine. Raga, dai, cioè, almeno si è consegnato. Cioè, dico, ha capito l'errore, si è fermato con l'incidente. Grazie per il follo, Alfa167, benvenuto. Grazie a tutti. Questa è la testa per me, eh, chi è che non l'ha avuta, scusa. In effetti. Ma senti che cura sotto. No, raga, adesso non ha fatto... Vabbè, signori, riberiamo l'attack, prendiamo i pattugli. Ottimo lavoro a tutti quanti. Perfetto. Che succede qua? Che casino c'è qua sotto? Cos'è sto casino? Cos'è sto casino qua sotto? Allora, le spiego. Dica, dica. Venga, un attimo. Cosa c'è? Allora, praticamente, abbiamo fatto... Dobbiamo volare. L'ha perduta. Sto cercando la targa, aspetta. No, non l'ho perduta. Praticamente, hai visto l'annuncio... Pazzuto. Allora... Allora... Sì, stai zitto. Stavo scherzando. Allora, allora... Allora, noi siamo al Donuts. Hai capito? Anche ad Ammo 2. Sì, siamo al Donuts. Ma che grado è lei, signore? Io sono un tenente. Oh, oh, oh! Sì, per il follow... Allora, scusami, non... Torbon, Davide Nove, Luca Maggioni. Adesso lo fa di cancellare, ho avuto un po' di più. Comunque, ci fa l'annuncio del Donuts. Ok? Perfetto. Come dice? Open bar, è una particolare. È uscito a terra smerzatamente. L'abbiamo fatto noi. Ci sono anche tutte le prove. Che cosa che c'è? Scusi? Assolutamente. Cosa? Ripetere un attimo che c'è la radio che parlava sopra. Ho detto. È del mestiere. Abbiamo fatto noi l'open bar. Ci sono tutte le prove. Questo non è un problema. Ok. Ad un certo punto abbiamo detto, vabbè, andiamocene verso il garage andrà. Andiamo verso il garage andrà, sta a fianco alla macchina bianca e fa. Ma come cazzo ti permetti di seguirmi? Ma chi cazzo sei? Ma come cazzo ti permetti? Così da nulla. Mi ha infortunato. Mi ha insultato. Cosa assurda. Una cosa fatti colare. E io ho detto, ma chi ti caga? Ma io non lo capisco. Volete denunciare gli insulti? Volete denunciare gli insulti? Volete denunciare? Ma io lo saluto a mezzo. Non fai, adesso lei fornisce, se ha delle prove video, se ha la copro, fornisce alla gente. E poi vedremo se riconosciamo. Se riconosciamo qualcuno. Sinceramente sembrava anche, l'amico gli ha detto, ma sei ubriaco? Perché secondo me era anche ubriaco. Ah. Vabbè, comunque. Esatto. Senza fare metà, non è il capo di cartello. No, 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 non è il capo di cartello lì. Eee, collega. Guarda l'open bar, guarda. È importantissimo. Guarda l'open bar, guarda. Hai visto? Particolare, cresciuto a terra, smerratamente. Virgola, ti ho dimenticato la virgola. Virgola, virgola. Non l'ha messa, l'ha messa. È un buono scomativo. È un buono scomativo. Gli dobbiamo dire importantissimo la tag e dopo se ne può andare. Vabbè, agente, si signi la targa? Sì, me la so. Mettamente il tag qui. Ma io lo fuggire a lei, per favore. E' no, ma è il compito di un agente prendere la denuncia. Poi io supervisiono l'operatore dell'agente. Allora, inizio con la prima lettera. Ci sono tre stecchette orizzontali paralleli e una in verticale che li precede. Dopo... Sì, sì. Cioè, verticali, parallele, tre? Tre stecchette, una sotto l'altra orizzontali, messi in modo parallelo e una stecchetta verticale lunga prima. Questa è la prima lettera. Ah, eh. Eh. Ok. Poi... Che fa una donna incinta. Che fa una donna incinta? Una B? No. Quelle fa giù ai gemelli. Deceva... Eh, cosa è la B? Ah? La B? Quella è il padre che ha mangiato troppo. La D? La D? Sì, sì, sì. Ci sono, ok. Sì, è figlia femmina. Poi ci... Poi ci... Poi ci sono due palle, due palle di cipne. Due palle, eh. Secondo di voi. Devo un attimo andare a parte per un caffè. Sì, sì, sì. Due palle. Cosa? Arriva su da che si vuole trovare. No, sono palle. No, sono palle. Grazie. Grazie a tutti. 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 Che... Che... Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Così... Così... E... 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 Oh... Oh... ... E... Do... ... E... E... ... E... ... E... ... ... ... ... ... ... ... ... ... E... ... 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 Ma non devi toccare il mio! Ah, Orlando. Peccato, no? Io pensavo volessi sposare, me non mi parla, Smith. Niente per caso. Mannaggia, lei. Ditevi un abbraccio anche tu. Niente per caso. E che vuoi dire? Oh, Dio, che vuoi dire? Io non ce la faccio più, non serve davvero un doppio caio di mutande, vi prego. Che sto... Ti amole, ti amo. Sì, anch'io, Smith, un sacco. E' stato bello come primo bacio. Non vede, cazzo del pollo. Pare che se hai detto, cazzo del pollo. Ma dov'è finito mio padre? E' sceso? Ah, mi stai chiamando. Pronto? Ma ha baciato il canale, papà, ho paura anch'io. Tu hai paura di me? Lì, lì ti voglio bene, mi abbraccio assolutamente. La mia abbraccio, dov'è qua? Eh, eccolo qua. La mia abbraccio, Lili. Adesso mi sta abbracciando. Ti voglio bene, Lili. E' quanto ti voglio bene. Ti sei mancata un sacco, i giorni che non c'eri. Ti sei mancata un sacco, Lili. Ma no, fammi lo Smithy, ti voglio bene. Voglio farti perdere il lavoro, mio padre. Mi butto su. Vabbè, ho capito, ho deciso. Vuole ucciderti. Ho capito, passerà il treno, mi vestirà. Smithy, non ti lascerò mai. Appena passerà il treno, mi vestirà e morirò. Dopo quello che va di tornare. Io che gli volevo mostrare, volevo affetto da parte sua, gli avevo chiesto dell'affetto. Volevo baciarlo e mi ha, mi ha, mi ha, mi ha, mi vuole minacciare. Smithy, 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 Smithy. E cosa stai facendo? Ok, basta adesso. Perfetto, andiamo. Ok, momento non seta, è finito. Mi sta là. Perfetto. Andiamo da Orlando. Dov'è finito Orlando? È su? Eh, no, credo sia giù. No, no, è su, mi sembra che è giù, non penso, è sceso. Cioè, sì, è su, è giù, c'è, non lo so. È fuori. È fuori, no. Oh. Sono un po' confusa. Perché? Non lo so. Perché ti ho baciata? Anche. Ah, ah, addirittura. Ti confondo. Ehi. Sì. Comunque, io ti ci vedo un sacco bene con Banner. E mai ne avevo già proposto rifidanzarci, però mi ha tirato una frenzonata, incredibile. No. Mi sta chiamando Milani. Dov'è? Oh, piove. Pronto? E siamo fuori noi. E poi non so dove è andato, eh. Eh, dove è caso può essere andato? Dove è che sia topare? Ah, è qua. Orlando? No. No, no, no. Aspetta che c'è un'altra macchina. Di me dove sei? Ci manca... No, no, no. No, no. Mi siamo fuori all'errore. Mi scuso veramente, non volevo, Orlando. No, no. 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 Mi sono confuso, ecco. Non volevo. Non volevo farti uno scherzo. Papà, perché stai girando un volante invisibile? Eh? Mi sta guidando Smith. Non io. No, ma tu gli stavi tenendo le mani sulle spalle, allora. Ma è vero? Ma che mani sulle spalle? Allora ti piace tutto un fatto. Ma senti, non faccio passaggini a Smith solo perché hai un macchino, ok? Non esiste. Ma è solo un affetto tra il padre della sorella, il padre filatale della sorella e basta. Cioè, niente. Ok. Adesso è un po' di affetto così, non è che è passione e amore, no. Dammi tre parole, sole, cuore e amore. No, no, non ti volevo baciare perché ti amo. Smith mi voleva baciare. Io amo Lily, l'amo da quando è entrata in polizia, Orlando. Inchiutiamo, segretamente. Perfetto, allora possiamo fidanzarci, Lily. Va bene, subito. Perfetto. Scusiamoci. Ok, quando? Adesso. Andiamo in chiesa, andiamo in chiesa! No, no! Ci sposiamo io, Lily? Vuoi sposarti che non perde? Non mi sei brava. No, infatti. Vai, su. Avete visto un veicolo parcheggiato qua? Questo qui dietro, no? Sì, c'era qua davanti un veicolo, ma è scomparso. Ma è scomparso. Perché? No, non lo so. Buongiorno. Buongiorno. Mi hai sequestrato tu qua. Buongiorno, Mimmo. Io non l'ho sequestrato. Non so che fila abbia fatto. Mi stanno chiamando. Milani. Con me? No. Ma come ti abbiamo abbandonato? È avuto la pioggia! No, no, no. No, in realtà, signore, c'è nel senso ci avete lasciato con quei due psicopatici lì sotto. Ma hai lasciato Milani là, Smith. Il punto in bianco. Ve l'ha detto? Ma non c'è chi sta a posto qua. E prendi, non è che si mette sul camion. Non hanno voluto aspettarti. C'è Smith e Orlando che stanno rimando palesimente contro la tua posizione. Ma non c'è posto sta lì qua dentro. Ma non avete la volante vostra, voi, delle FBI. E Smith non vorrà venire a prendere. Ma no, più che altro, voi come siete rimando qua, amico? Ci hanno portato quelli. Ma perché mi fate ascoltare da... Perché praticamente quel tizio mi ha detto che sapeva un sacco di informazioni sugli Xeno. Allora li abbiamo seguiti. Non c'è posto qua, però. Porta a bagagliaio, vedi. Non è il bagagliaio. Ma che cazzo me ne frega? Ma è niente del bagagliaio. Ecco. Perfetto, non è il bagagliaio, a posto. No, mi sono messo sul cambio. Non mi faccio di più. Oh, no. Sento non farti male. Dovresti improvarsi con lui, Smith. Orlando, comunque ho filmato il tuo attimo di passione con Smith. Ma? Se vuoi, dopo lo vieni. Io anche la denuncio per violazione della privacy, eh? No, eravate in suolo pubblico. Ma non devi... Non devi vergognarti. Non mi avevo vergognare. Non era un bacio d'amore. No, si vedeva che era d'amore. No, no, no. Sì, era super passionale. Quello con Lily era passionale. Io mi sono emozionato. No, io la faccio schifata. Ma come? Lily, la faccio schifata Lily. No, io no. Assolutamente. Ah, vi siete fidanzati? Chi lo sa? Io ne lo chiederò tra qualche giorno. Lily, certo che tu salti da un fiore all'altro proprio, eh? Un'ape. Chiamali i fiori, chiamali i cazzi, guarda. Ma no! I lani! I lani! I lani? Cioè, non ti dicono questi lani. Allora... I lani, contieniti! È un sergente di polizia! I gnotte che non conoscevo. Quindi questa qui me la dovevate, è anche in silenzio. Totò, che è stammato. No, non c'è un sito che ha detto che Lily fa più ciucci della Vico. Lily! No, no, sei lì! No! Non sei detto! No, no, Lily non è vero! Che sei foda lì dall'Alexa Diccio? Io la volevo chiusa, basta. Ma ti pare che abbia detto mai una roba del genere? Ma perché mi hai preso? Orlando! Non crederci. Cosa dici su tua figlia? Oh, vi giuro! Dovresti vergognarti. Beh, è vero tantissimo! Mimmo, Mimmo, lo sai che il giro si dicono? No, il quale. Mimmo non dice mai le bugie, lo fa. Dovresti saperlo meglio di me. Effettivamente Mimmo non ha mai detto una bugia in vita sua. No, è proprio per questo che mi sembra strano che sia riuscito a sta strassando. Ma non sta dicendo una bugia? Facciamo il giro a serie, dai. Già non gli ho creduto una volta, è stato incazzato per me per un secolo. Lei ha ragion veduta! Esatto, è imparata dai miei errori, vedi? Per me o con me? Eh? Per me o con me? No, ho detto con me. Hai detto per me? Per me. Ah, è davvero? Vabbè, con me. Senti, ma tu fai ancora la detective... Finta? Sì, finta perché non ci sono così ma... Ma anche la mattina? Ah, oggi ho visto... La mattina. Oggi ho visto un rapporto interessante di livello a vedere. Eh, no sì, me l'ha mandato in privato. Cioè, mi ha detto che non scriveva. Ma ieri alla fine come mi aveva metto a finire quello in processo? Ah, vorrei sapere anch'io, non c'era. Bella, madonna. Mi stanno fermando, signori. Come dicevi qui? Non lo direi che ti stanno fermando. Sì, sui qui dentro... Ah no, ok, non c'erano con noi. Oh, non c'era per il tempo. Accendono le scene asprati, sono timidi. Abusano delle sirene. Eh, parla ti. Ah, ne ho io la gecca di altre gente. Sono venuto. Prima era per... Basta che non si ubriacano di nuovo questi due. Oh, sono ubriacati venga allora. Sì, si ubriacano. Sì, si ubriacano. Sì, si ubriacano. Si sono presi quattro... Un scena a testa. Ma donna mia, ma che siete delle spugne siete? Sì. Erano buonissimi, cazzo. Ora capisco. Buongiorno. Salve. Ah, aperto. Ma questa è il tuo sosia, smittura. Ma come no? Ha capelli diversi. No, è vero. Ah, lei, buongiorno. Perché ha abbassato così un pochino con quegli occhiali. Salve. Salve, buongiorno. Ciao, cosa da bere? Siamo arrivati a fare la seconda dose. No, no, no. Seconda dose no. Non si beve, il mio spizio. Vedemi tutto. Allora mi dia un bel panino con la carne che fate voi qua. Buonissima. Papà, vuoi un hamburger? Ah, sì, volentieri. Un bel hamburger è una Coca-Cola, grazie. Facciamo il pranzo, ci facciamo così. Grazie. Dai ragazzi, offro io il pranzo. Prendete pure da mangiare e da bere. Beh, allora due panini, grazie. Mi dia anche da bere, signore. Dai bene, qualsiasi cosa voglio. Mi prendo dieci panini e dieci acque. Sì, anche io ho il cestino da portare in sede FBI, gentilmente, mi faccio 50 e 50. Ma, no, 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 massimo tre a testa, pago io. Voi sappiatelo. Eh, faccio suggerire o io lo Jack. Eh? Eh? O io lo Jack. Cosa? Cosa? Ve lo faccio suggerire. Che cos'è? Che è alcolico? No, è alcolico. Ha un alcolico, lo ielo Jack. Eh, lo ielo Jack è proprio il nome di un alcolico, di un drink. Ah, come si? Un drink. Diciamo che è uno Jack Daniels con della spremuta d'arancia, però lo Jack Daniels è come la Pepsi Zero e... Ma alco ancora non ha fatto l'acqua. Cazzo, questo ielo Jack lo voglio provare subito. Un rubinetto, l'acqua. Ciao, Walter! È buonissimo, cavolo. È molto dissetante anche. Fammi mangiare sto pannino, mamma che buono. Io da piccolo le vendevo le dimonanti. Eh, sì. Andavi a venderle... Eh, a me ma al rato mi dà invece una Coca Cola e un sandwich a me. Anzi, due Coca Cola e due sandwich. Ahia. Ti giuro che non prenda un po' di manane. Ahia, mi dà l'acqua. Ahia, mi dà l'acqua. Non ti dà l'acqua. Due sandwich e due mole a me qua giù. Grazie. Mi dà l'acqua. Mi dà l'acqua. Mi dà l'acqua. Mi dà l'acqua. Nutella e maionese. Che cazzo hai detto? Un po'. Salame, carciofi, nutella e maionese. Ma che cazzo ti mangi, Mimmo? Mimmo. Poi la città di stomaco ti devi prendere. Perché insomma non ho tempo di fare primo e non città. Ho capito, ma fa schifo. Mamma mia. È tornato il cavallo. Signore, toglie la maschera. Ah, sono il cavallo. Sì, però devi togliere la maschera. Si toglie la maschera. Il luogo pubblico è stata senza maschera. Poi volevo solo una bottiglia. Togga la maschera il luogo pubblico. Una bottiglia di toglie. Ora sbatto fuori da qui. Torza, togliendo di maschera. Adio XFAN, che ha stato di pollo. Signore, deve togliere la maschera immediatamente. Se vuole posso mettere un po' sotto di coglia o te. Perché non può stare senza maschera. Non tolga. Ma io sarò il cavallo. Allora, senti, ora togliere la maschera e la tolgo. Vado fuori. Vuoi? Fermo. Vado di togliere la maschera. Fermo, togli la maschera. No, no, ne sono sicura. Aiuto. Oh, fermo. Il cavallo scappa. Lo prendiamo. Lo prendiamo. Ehi, vatini. Ehi, niente, volevo bloccarlo. Vai, 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 vai. E manca Mimmo. Mimmo, 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 ci raggiunge. Mimmo. E vabbè, Mimmo, sta attacca il casco. Vieni, 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 vieni. Destra. Ma, 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 Mimmo. Mimmo, ci raggiunge, appena detto. Ma come cazzo ci raggiunge, Mimmo, che non c'è la macchina. Ma, e, la trova, chiamo il taxi. Cioè, che cazzo facciamo scappare un criminale? Eccolo. Fermo. Mimmo, noi stiamo seguendo un ragazzo. Cosa vuole dire? È un cavallo, un tizio che... Sì, è un cavallo, un ragazzo, non lo so. Si fermi? Giovanato, si accorsi cortesemente. Tocca sta maschera. No. Vabbè, dovrò tornare io la gio... Diggili a Mimmo di pagare la fattura e poi gli do i soldi. Mimmo, paga la fattura, dice Smith. Poi, che so. Paga la pago, ma figurati, ho detto che pagavo io e pago io, però sono nel seguimento. Poi Mimmo ti mando un 50.000 per pagare tutto quanto. Che sborone. Mandami il bonifico. Ma, cazzo, stai. Ma, cos'è, cos'è che stai facendo? È story forest, story d'intelligence. È un cavallo, è un umano, è un misto. È un uomo a mano con una maschera a cavallo. È un minotauro. Non è un minotauro. Puglioni, ho visto tra un cavallo e un minotauro. È comunque il cavallo del 5. In che cavallo siamo, 5. Qui, da... Siamo all'altezza della miniera, vicino al 707, per intenderci. Sto andando verso la città, sono andando. Arriveremo al civico, diciamo, 890. Torna indietro, verso Sandy. Verso il civico 912, ci stiamo scendendo, signori. Tanto lo so, vero, che sta guidando Milani. Ma, ce l'ho fatto, diceva un altro sheriffi. Sheriffi, a mele 1080, Sandy Shore, stiamo muovendo verso la città volante che sta al negozio di vestiti al 1500, per intenderci. Ci sentite? Sheriffi, ci siete? Sheriffi? Sheriffi? Che è la volante al 1500? Che è la volante al 1001? C'è la volante al 1001, chi è? Dove va questa macchina? Vuole un po' di uva, scusate. Posso raccogliere dall'uva, per favore? Sì, mettila nel bagagliaio che non hai. Dove è che l'ho messo sul porto? Eh, appunto. Che non hai? Senti, c'era un po' di interferenza radio, vaffanculo. A costi, siamo all'uva, siamo all'azienda vinicola. No, no, sali, Lily, che cazzo fai? Lily, ma che cavolo fai? Mi metto paura. Poi ci scappa. Poi ci scappa. Dove vuoi andare, bastardo, fermati. Ma dove fa questa macchina? Ma dove fa? Sì, c'è? Fermo. Ma che fanfa fai? Non lo so. Vabbè, lasciano lì. Siamo sopra qua adesso, siamo all'azienda vinicola, in buccia all'edificio. Ma dove andò, Orlando? C'è quello che sta scendendo a piedi, ma dove andò, Orlando? C'è quello che ci usci, con le spiai. Ma cosa andiamo, l'hai fatto? Oddio, cosa c'è di dentro? Ok, che fai? Ok, siamo dietro di voi. Ma Orlando perché c'è? Mi sa che mio papà è caduto, vuole riferire a un altro mezzo per bucciarlo. Ah, ma in teoria dietro di noi c'erano Mimmo e Volker. Oddio. Ma dove fa? Dove fa? Dove fa? Figa. Minchia. Che attrazione che ha questa macchina, ha visto. Sì, è stata una attrazione della FDI? No, un'altra va toglierà. Proviamo ad anticiparla, qui blocchiamo la strada. Qui è totorezzata? Sì. A posto. Dì, che procediamo con la manovra pit. Grazie per il pollo, Matt. Matt, non mi sa degna. Grazie per il foglio. E qua sei acido, non è mia, smith. Cosa? Niente. Boom! Boom! Giuna! Dio, stronzi! Che c'è bene? È una pattuglia volata giù. No, non so, 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 non so. Beh, oppure ho fatto nulla. Come seguindo dai fb-SS fan, come fare un miniglio nascosto son. Vuoi dai FB-AI, bloccatela qui davanti, i tempi di genizie alla strada, vediamo già nella strada, stiamo arrivando all'incrocio. Chiama l'incrocio, bloccalo! Sì! Sta anche l'FBI ora nel seguimento. Cazzo del follo o da Gohan. Cazzo del follo. Dite all'Adam dietro di lasciarmi il primario. Lasciarti che? Il primario. Che significa? Il fatto che io sia il primo dietro di avanti. Ah beh, non ci supereranno, non ti preoccupare. Eh no, perché sennò può succedere come prima. Li superano cazzi loro o farlo nel seguimento? Però devono boxare davanti. Possono provarci per mano davanti. No, troppo di schifo. Non ho paura. Ma quello che lippi il volo ragazzi che ha fatto volare giù e me lo mandi per il privato. Non lo faccio volare nemmeno c'è ne basta. Potrò lippi la pite di Pilani. Direi che è più che azzeccato. No, le faiate le volevo prendere io. Te ne ha lasciati un po'. Dove se riluppare un po' la culo. Niente, sono finito. Cosa vuole mai è così soddisfacente a prendere paletti? Ma non ne avevo. Accosti! Accosti! Pittano! Ma che pittano? Quando vuole l'aria nell'oceano. Ma dove sono quelli dell'FBI? Sono persi. Pittano le 110 e passa, mi sembra... La macchina dell'FBI va di merda. Sono persi? No, no, va lenta proprio. Dove sei, Orlando? Orlando? Ma gli riesci a vedere il GPS? Che io non li vedo quelli dell'FBI. Dove siete? No, non ci sono. No, io li vedo. Io li vedo. Ok. Siete sull'aula dell'FBI, Orlando? Sì, ma va lenta. C'era veramente stra lenta. Non è fatta l'accomitamento. Oddio! Si è riluppantato. Scegli con le mani in alto. Forza. Scegli con le mani in alto. Oh, fuck. Oh, abbiamo fatto l'alto, cazzo, è una ora. Oh, le mani in alto. Scegli dall'auto, alza le mani. Ammanentatelo, colleghi. Ammanentatelo. Stamente. Ho le mani in alto. Conoscendo il cavallo potrebbe correre. C'è lo stesso cavallo che è un bente. Attessi ora. Stia fermo, stia fermo. Stia fermo, stia fermo. Stia fermo, stia fermo. Stia fermo. Stia fermo, stia fermo. Stia fermo. Stia fermo, stia fermo. Stia fermo, stia fermo. Stia mirando le palle, non c'è attenzione. Stia fermo, stia fermo, stia fermo, stia fermo. Dio scatto di rofa, rofa. No. Quando Spiro dico, non ti ho consentito posta. Certamente, ogni volta che non prendi, dici la prossima volta. Sarà che ti prendi. Sì. Perfetto. Stia da posta, gara. La prego mi dice che non abbia le palle come la tua scena. Non posso inserirle, lui. Non posso. Non posso. Vabbè Fa tanto Vabbè dai si Eh addirittura Ma non funziona il lampeggianti a sta macchina Non vado il lampeggianti Non vado il lampeggianti Non vado il lampeggianti Io vado all'istorante che vado a pranzo Allora andiamo Andiamo Cazzo del follo Ok io sono il cavallo Un attimo eh Dai cavallo sali E sali cavallo E sali cavallo Salite con noi E ci sarà un posto qua Ci hanno incontrato la macchina delle FBI o sbaglio? No ce l'ha un vostro collega Ah ok Andiamo, andiamo in centrale Centrale Alla duro 7 quindi la sequestriamo Mi era mancato il cavallo Il cavallo Pazzo Ti era mancato davvero? No Oh Michele Michele Ma mia Ovviamente sto scherzandoci Cos'è che ha fatto scusa? Niente Cavallo pazzo Il cavallo passarello Attenzione Massimo No No Continuatela Il cammello Che sono gli sfaccidentati oggi i paletti Ma basta Ma guarda che io non capisco Cioè deve essere qualcosa Che Cioè veramente Si Ma secondo me il comune li mette apposta Perché così la gente Oh Michele Ma come quel bombito ti riporta qui E anche uno a sto punto li mette in mezzo alla strada Così la gente tiene la caraccia Ma secondo me è il suono che fanno Cazzo del follow Joe E' venuto Eh Me lo fa venire un po' così Allargato Non mi interessa però Cosa c'è allargato? Un po' troppo Tu Condividi sempre troppe informazioni Orlande Quello è il problema principale Dico troppo dici Dici un po' troppo Sì Alcune cose Noi parlavamo di Sì Scusate Oh ci sono altri Qui E ma già questi qua sono Sono un po' meno Perché Sono appunto Sono separati Quindi danno un po' meno Soddisfazione Esatto Perché fanno Questi ci vanno Tutto 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 Aia Si lancia Quasi come la tua Lily La mia è inarrivabile papà Ma guarda Ehi che Che ristorante magi? Dove ti dobbiamo volare? Eh Non mangi in mensa Deva centrale Sì Ma sei povero Oh Ma fanculo Mi danno il buon pasto Cosa ci devo fare? I buon pasto Cerai? Che la guida in polizia Sì Sì Sono scaduti Oh Il cammello E mai che me ne dai qualcuno Sì Sì Grazie Che cazzo Ora capisco perché figa Rubano macchine come se piovesse Ma? Ma che c... Cazzo Facciamo che tu ti cambi il buco Ah Ma sono quelli che hanno fatto la denuncia prima Scusate Ma stava facendo una rapina? Noo Noi siamo qua Vabbè A posto Interveniamo Che succede signori? Cosa serve per fare? Scusate Ma manco il tempo Già la polizia E non vanno Che velocità Comprano un po' di ore secondo me Eh È vero Sto capendo Per favore Avete scelto un ottimo orario È certo Eh Sono in Pasa Pranzo adesso Noi siamo in Pasa Pranzo Non c'è strame soldi Non entriamo A Pasa Pranzo non c'è nessuno Guarda quello che fai tu Guarda tu È un mio mio Tuoi Guarda Lo vedi? Il tuo talmente gar collisionico Un bobo di culo Sei a che parte con me Finisce di essere grosso così Quindi fai attenzione Si Di 그대로 Oh Tinto Orlando Chi 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 anche le armi in campagna coltivare o dire seguendo gli attenti seguendo scappa lì vai in centrale scappa vai in centrale vai dritta vai se ne fai dritta scappa 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 corra signore che le fa bene ma che cattivi l'ho incimentato la scappa che ti sta seguendo non per correre brutto comunque per la sua stanza non so detto che mi spiace è un po sopra non è un problema l'ho portato da casa no non è suo no perché altro è un po roccinito non è che di scherzo ehi devo uccidare ma chi è? il cuore non batte vabbè ci liberiamo di un po' di disgraziati aiuta aiuta il mio trattore ma ora ha comprato il trattore eeeh bucarmi tanto allora non credo tu possa bucargli le coccane non ce li ha torno al mio campo di grado vederci mi raccomando eh vado i vado vado i vado alla buonora anche lei ma mia anche lei è un po' lento eh ho sbagliato ho sbagliato fermo fermo palizia ti trasformi in una guilla giuro sali dal colinco levati dal casso fermo ciao a lei ciao a lei cildino era quasi intonato mi sembrava quasi Enzo Napoli cildino tra le tue aiutano ho gardenia il Vedi, che mi dicevi, ma sono smeldati questi. E mi metto un cuore una rapiglia, è finita, sappiatelo. Sì, ti faccio il buco di culo a te, io ti... E ancora questo buco di culo, voglio vedere. Ti fai schissato il tuo buco di culo, comunque, Orlando. Vieni qua, te c'è colaggio, ti smeldo tutto. Ti smelda? Ti smelda? No, sono proprio un rio, se non riesci a fare questo qui. Va beh. Ha detto di fare il buco di culo. Fa un buco di culo e ti smerda, ha detto. Eh, è un sentito. Ci vediamo. Ciao. Sì, potete vederti presto. Oh, che bello abbraccio. Che cari neri, ti fa come una bella famiglia, senti. E tu una bella famigliola. Ciao, caro, come lo sai? Ciao, papi. Ti vado bene. Bene, bene. A presto. Ciao, Lili. Tanto lo sappiamo già tutto come funziona. Ti vede una volta e cinque giorni no. No, ma sai, oggi mi vedi perché sono... È inferiore. Sono in servizio oggi tutto il giorno. Ah, bravo, bravo. Io invece no, alle cinque devo essere via. Senti, Lili, ma che ti licenzi, scusa? Ma come? Ma come? Ma che cazzo ti serve le soldi? Ma che te ne frevi? Vedi di rendita, via. Sì, mi mantieni tu? Gioco all'otto, vinci l'otto e via. Magari. Sì. Cazzo, magari sì. Vabbò, ragazzi, io vado là. Anche io per la pranzo. Vabbè, vabbè, vabbè. Vado a dare una botta a Orlando e torno. Oh, come una botta a Orlando. Sì, con il martello. Sì, con il martello. Ciao. Ciao, Smita. Arrivederci. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Puntoscanativo Yt, potete iscrivervi sul mio canale YouTube per seguire le repliche dei caduti video che porto sul canale. Puntoscanativo Discord per iscrivervi ad entrare nei miei server Discord. Puntoscanativo server GTA, server GTA e quant'altro. Comunque, regalo tanto per stati con me. Vediamo la Starush che magari vi lascio la Starush. Mi raccomando, eh. Adesso dovete scrivere il messaggio da Starush. Tutti così. Ti è piaciuto il bacio di Smith? Ok. Così, vi mando il messaggio. Ok. Appena faccio il ride, tutti a... Ah, ti è piaciuto il bacio di Smith? Ok. Peronti, ragazzi. Buon, ragazzi, ci vediamo tutti e ci vediamo alla prossima live. Grazie a tutti. Ciao. Entrate tutti, giornate tutti. Molto più credibile. Sei esperto di discutere. Ciao.